Per chi vorrà avviare attività commerciali a Caltanissetta c'è un'opportunità data dal Comune. Infatti sono 80.000 gli euro stanziati dell'attuale amministrazione che sono destinati ad incentivi mirati e a chi vorrà presentare richieste entro il 30 maggio. Questa è una delle tante strategie che la Giunta Gambino sta mettendo in atto per rivitalizzare e ripopolare il centro storico. Pertanto è un contributo che va a chi vuole investire in prodotti di riqualificazione dei prodotti tipici del territorio nisseno. Ovviamente questa è una condizione sine qua non è necessario che vengano valorizzate tutte quelle che sono le eccellenze del nostro territorio. Questo è un contributo che può fare da spinta a chi già ha di suo un'idea. E chi già ha il cuore e il proprio centro storico che comunque ha la voglia e il desiderio di restare. Quindi questa è una mano d'aiuto che il Comune tende a dare a quanti amiano la propria città. Il contributo prevede un tetto massimo di 8.000 euro. Investo al centro è il nome dell'iniziativa e guarda ai giovani e alle donne e a tutti coloro desidereranno avviare un'attività in proprio.